Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video sul canale Grande richiesta, oggi realizzeremo insieme con la resina tutti, tutti quanti i cristalli Farò un po' di planchette con i fiori, farò altre creazioni con i fiori E soprattutto utilizzeremo tutti i nuovi colori che mi sono arrivati da Resin Pro, quelli della Stylife Ink Tutti, tutti ora ne ho besti giusto una manciata, ma qui davanti a me ho tutto il cartone pieno con tutte le tonalità Quindi le proveremo insieme, vedremo un po' come sono, come si presentano mescolate alla resina O comunque che effetto fanno all'interno di questi cristalli Mentre come resina oggi andremo ad utilizzare sempre una resina Resin Pro, questa qui è la iCreation Veloce Ovviamente ci tengo a precisare che lavorerò con la mascherina e con i guanti Quindi di conseguenza vedrete questo video un po' velocezzato Poi se ci sono parti divertenti in cui farvi vedere il colore, insomma queste cosine qua, le vedrete rallentate Però ecco, se vedete velocezzato sappiate che è soltanto per una questione di sicurezza Anche mentre indosso la mascherina, quindi tendo a parlare un po' meno Ho un po' di cosine prante, direi di iniziare e vediamo come sono tutti questi magici coloranti E che cristalli riusciremo a fare Ok, come primi cristalli farò questi due più piccolini Che tra l'altro mi ispirano tantissimo Poi in realtà vedrete prossimamente già domani, penso Dio non so quando, il video in cui li scopriremo E poi li andremo già a decorare insieme perché tutto qui intorno li decoreremo di oro Però insomma divertiamoci e vediamo che colore utilizzare Allora, allora, per queste prime due farò un po' di colori In realtà mi servirebbero i bicchieri piccolini perché sarebbe veramente molto molto meglio Ma purtroppo mi sono dimenticata di andare a prendere Quindi mi ritrovo a dover usare bicchieri giganteschi E soprattutto sarebbero stati comodi quelli piccoli, trasparenti Che uso sempre io per farvi vedere i colori soprattutto Però vabbè, ci accontentiamo di questi grandi Ovviamente li riciclo, li utilizzo un sacco di volte Allora, come primo cristallo ne voglio fare uno in tonalità super ninose Quindi usiamo questo rosa, questo yellow green e questo pastel violet Vediamo come sono, troppo mi sono dimenticata Ok ragazzi, devo togliermi un attimo i guanti perché per fare il video è veramente, se no, troppo difficile Non riesco ad aprire bene neanche le cose Quindi non fate come me, usate sempre i guanti, mi raccomando Qualche gocciolina di questo viola Qui ci mettiamo un po' di goccioline Uh, questo rosa è super fluo E qui dentro invece ci mettiamo Wow, bellissimo questo È un verde giallo molto bello Quindi vediamo come sono una volta mescolati Allora, come potete notare gli stylizing A differenza di molti colori dei pignata Non cambiano colore all'interno della resina Cioè rimangono esattamente Oddio mi ricorda un ghiacciolo al lime Rimangono super trasparenti e il colore è bene o male voglio dire E quello non cambia assolutamente Oltre questo c'è da dire che rimangono super trasparenti Quindi sono perfetti per la resina A me piacciono tantissimo E anche con questi potete fare gli effetti Petri dish funzionano esattamente allo stesso modo Guardate che bello questo Poi ovviamente più caricate più si vede Però guardate quanto è bello Questo è il purple violet E mescoliamo questo rosa super fluo Che mi ispira Proprio un bel colore di quelli super super Wow, sì, guardate quanto è bello È un rosa fluo bello Trasparente Che secondo me per gli effetti cristallo Merita da morire Sì, che merita Ok, quindi la mia idea era di usare questi tre colori Però ora che li vedo mischiati nella resina Non è che ci stiano proprio bene insieme Quindi vedremo Dai li mischiamo e vediamo quello che succede Anche perché il bello sta nel provare nuove cose Una volta colato Non è brutto il colore Anzi, non so se è riuscito a vederlo Vira più sul giallino Quindi poi non mi dispiace Ok Il primo cristallo è fatto Oddio, non so quanto da lì si veda Ma spero si veda qualcosa Perché Sembra abbastanza carino Ora vorrei provare A buttare qualche goccia di magic drop Qui e lì Per vedere come mi espande il colore E soprattutto Vorrei buttare qualche goccia A nudo Quindi proprio gocce intere Dei vari colori Proprio così Da sopra Cioè senza miscarli alla resina E poi ora già iniziano a sembrare dei cristalli quindi ok forza ci siamo bello che li ho fatti in passato mi piacevano un sacco e adesso mi sono resa conto che molto probabilmente non sono più tanto capace come tempo fa però vabbè basta riprenderci la mano questo più grande questa volta lo farò in un altro modo completamente un'altra tecnica ovvero quella di mettere resina trasparente e poi colori ad alcol direttamente nella resina così a gocce sopra e farli espandere così quindi vediamo come potrebbe essere come potrebbe venire così che sinceramente non ci ho pensato di andarmi a rivedere i miei vecchi video e tipo vedere come li facevo prima ma vi giuro che ho un vuoto terribile non mi ricordo quindi sto letteralmente sperimentando mettiamo tanta retina trasparente non tantissima così poi se vogliamo aggiungere da sopra ce ne rimane un stavolta voglio provare questo qua che secondo me è bellissimo perlomeno sembra bellissimo dalla confezione sembra bellissimo ok questo lo mischierei con un po' di questo grigio che secondo me merita questo grigio è molto scuro quindi bisogna vedere come rimane wow però mi piace l'effetto ecco così così mi piace veramente tantissimo non so se voi riuscite a vederlo bene spero di sì però merita ok creiamo qualcosa di stranissimo divertiamoci totalmente ci buttiamo dentro qualche goccia di magic drop ci farà espandere il colore guardate che bello ed è bellissimo l'effetto a celle che crea il magic drop questo è lo small quindi crea delle celle più piccoline lo trovate sempre sul sito resin pro mettiamo anche un pochino da questo lato bello 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 devo dire che mi piace tantissimo l'effetto che si crea bello 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 adesso qui al centro ci butto ancora un po' di trasparente voglio usare questo che è una fucsia il cisteriz praticamente sarebbe mi sembra bello scuro il cisterizio voglio usare questo che è una fucsia il cisterizio praticamente mi sembra bello scuro usarlo con questo celestino bellissimo, vediamo insieme che cosa creano, quindi wow che bell'osa qua invece nell'altro usiamo sempre questi al contrario e ci aggiungerei guardate che bell'effetto sto facendo vedete pure, ah bello è un verdino, sembra più chiaro, però devo dire che è super bello vediamo, mescoliamo un po' i colori che sembrano super sparaflescianti grazie a tutti quindi abbiamo fatto i nostri cristalli, per oggi ci salutiamo così, io adesso vado a colare le planchette altre cosine con i fiorellini che voglio fare e poi ci vediamo domani con il video scopriamo in cui scopriremo come sono venuti i cristalli, li finiremo di decorare intorno con loro, capiremo dall'altro lato cosa si vede invece, perché poi in realtà di questi cristalli il lato bello è quello che vedete già adesso, però sono comunque da finire, scopriremo che cosa è venuto, vediamo un pochino insomma domani insieme cosa ne è uscito praticamente, quindi mi raccomando non mancate nel prossimo video fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video non mancate nel prossimo video grazie a tutti